Una rivoluzione che adesso arriva rapidamente anche nelle piccole e medie città. E' questa la sfida per la mobilità sostenibile del futuro lanciata nel corso di un convegno a Trinitapoli in cui sono stati analizzati diversi aspetti a partire dalle valutazioni tecniche per arrivare a quelle culturali ed operative su di un territorio eterogeneo come quello della BAT. Vogliamo creare veramente un continuum tra le città, Margherita, Trinitapoli, San Ferdinando ma anche collegarci all'interno della BAT con tutte e dieci le città in modo tale da consentire al cittadino, agli studenti, all'utente in genere di potersi muovere con più facilità raggiungere i punti nevalgici abbassando i costi e rendendo i tempi sempre più celeri. E devo dire che questo è l'obiettivo principale su cui stiamo lavorando. E Trinitapoli vuole poter crescere da questo punto di vista considerato che è una città centrale nell'Ofantino in cui c'è anche la stazione ferroviaria. Sono riusciti a mettere su un anello ciclabile all'interno della nostra città che parte appunto dalla stazione per arrivare poi su Via Mari quindi collegarsi su quella che è la pista ciclabile che porta a collegarci a Margherita di Savoia. Questo anello però è un anello che fa sì che ci si possa muovere all'interno della nostra città. Ora l'obiettivo è quello di chiudere l'anello con le altre due comunità e allo stesso tempo poi di passare anche a guardare ad un altro tipo di mobilità che sia quella pedonale sia quella ciclabile ma anche quella su gomme. cercare di evitare dal passaggio del centro urbano dei mezzi pesanti quindi questo è l'obiettivo principale, creare anche una circonvaluazione che possa evitare i mezzi pesanti che arrivano nel nostro centro. In aggiunta per Trinitapoli c'è una sfida ulteriore e cioè quella, visto che tra i comuni del nord-Ofantino e della riva sinistra dell'Ofanto è l'unica a essere dotata di una stazione ferroviaria. Allora Trinitapoli diventa uno snodo territoriale sia a vantaggio di San Ferdinando di Puglia che di Margherita di Savoia. Ecco, io credo che risolvere problemi di mobilità sostenibile, mobilità alternativa diciamo che tanto alternativa non dovrebbe essere perché noi siamo nati pedoni e prima o poi tutti diventiamo pedoni anche quando lasciamo la nostra macchina. Abbiamo il diritto di muoverci in città grandi come piccole, in sicurezza e in agio. All'incontro hanno partecipato consiglieri regionali, il presidente della BAT, nonché sindaco di Margherita, Bernardo Lodispoto, ma anche esperti della materia, proprio come l'ingegner Ciurnielli, tra i progettisti del piano regionale dei trasporti e del piano della mobilità ciclistica della BAT. Un contributo essenziale per spiegare come intersecare le diverse esigenze di mobilità in un contesto non più rinviabile in vista della realizzazione della cosiddetta Agenda 2030, fondamentale come spiegato nel corso della serata e sicuramente la condivisione con i cittadini, ma anche le idee della politica per provare a migliorare gli interventi comunali in un contesto di sviluppo regionale. Io sono del parere che è necessario incentivare questo genere di finanziamenti. Adesso, per esempio, si parla di asfalto che è in grado di produrre energia per le bici elettriche. Potrebbe essere una bella prospettiva per le nostre città.